Dal corso di italiano per straniere al ticket sanitario per il corso pre-parto o dall'affitto alle bollette sono le spese che tante donne in gravidanza non possono più affrontare e che in loro vece vengono sostenute dal centro diocesano aiuto vita di Verona per aiutare non a parole ma nel concreto le tante mamme che chiedono aiuto. Ci sono situazioni di donne che si trovano incinte e magari perdono il lavoro? Sono sempre di più, direi che sono tutte, nel senso che la maggior parte delle donne che incontriamo comunque sono donne straniere che sono in Italia da un bel po' di anni e che hanno tutti un'occupazione lavorativa. Molti di loro hanno un nucleo familiare molto numeroso, una nuova gravidanza al giorno d'oggi comporta spesso la perdita del lavoro nel senso che queste donne pur lavorando da molti anni hanno contratti a termini annuali e quindi molte volte con l'arrivo di una nuova creatura e con un contratto a termine diciamo che il datore di lavoro ne approfitta per lasciarle a casa. Tante le straniere ma sono sempre di più le ragazze italiane da sole che hanno bisogno di una mano. Una di loro incinta è rimasta due mesi senza acqua. Abbiamo avuto appunto l'aumento del numero di ragazze italiane molto giovani che ci chiedono aiuto. ragazzi che rimangono da sole e che quindi devono affrontare la gravidanza e devono essere accompagnate oltre che dal punto di vista sanitario anche dal punto di vista economico. Dall'inizio dell'anno a luglio sono 410 le situazioni seguite dal centro diocesano Aiuto Vita che in rete con le realtà del territorio ha indirizzato le ragazze a dei percorsi formativi. Di recente ha diffuso una pubblicazione con informazioni in cinque lingue su cosa fare, chi contattare per una gravidanza inaspettata. Le situazioni seguite sono sempre più complicate anche per la mancanza dei padri che cercano lavoro altrove e da maggio è attivo Progetto Chiara. Grazie a persone singole e a famiglie, 21 mamme sono aiutate mensilmente ma a chiedere sono molte di più. Avreste tante richieste di donne che hanno bisogno di essere aiutate in questo modo? Tutte, nel senso che veramente in questo momento la richiesta non riguarda solamente le cose diciamo così di pannolini e di vestiario o anche quello ed è importantissimo. Noi distribuiamo circa 400 nuclei per cui è un aspetto molto importante che il Centro Aiuto Vita porta avanti proprio come una risposta immediata a un bisogno, diciamo, manifestato immediato. Però parlando con queste donne ci rendiamo conto di quanto sono complesse queste situazioni e di quanti bisogni ci sono, di quante donne stanno perdendo la casa, di quante donne non riescono a pagare le utenze, di quante donne non riescono a comprare le medicine per i bambini o per se stesse.